Nome Luigi Giuseppe Età 33 33 quasi Professione Gioca a calcio Calciatore In che squadra? Torres Torres Chi è il più forte fra voi due? Lui Chi ha fatto più gol? Io Ovviamente lui A che età la prima volta? 13 15 No, ma che avete capito? A che età la prima sborna? Forse 13 15 Sono andato di pari passo Che ricordi hai? Beh, adesso sicuramente offuscati Non felicissimi, brutta figura Brutta figura Cosa avevi bevuto? Non mi ricordo Invisibile alla fragola Il giorno dopo hai ripentito? Un po' sì Parecchio Come si diventa campioni? Devi essere una persona umile E fare una vita regolare Ci sono momenti in cui potersi e sapersi divertire Questa è una domanda difficile Come si diventa campioni? Allenandosi Se tu oggi potessi parlare al tuo iubriaco Cosa gli diresti? Stai attento e bevi giusto Uno di meno Riesci a dire bevivici su? Bevivivici su Ho sbagliato Bevivici su Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti